Iniziamo questa nuova vettura di quest'anno, nonostante tutto quello che è successo al fine campionato, tutte le voci che si davano prima per falliti, poi per non iscritti al campionato, siamo qua, siamo qua belli convinti di fare un buon campionato, anche con la presenza del mister che è una persona estremamente positiva, capace di creare un collante e capace di dare quell'energia che forse ci è mancata molte volte. La squadra che mandiamo in ritiro è una squadra quasi completa, anche se mancano alcuni elementi che verranno integrati durante questo ritiro, la famosa punta e altri due o tre elementi. Dopodiché penso che saremo competitivi anche perché guardando sulla carta vediamo che le società al nostro livello non è che abbiano tante potenzialità in più, anzi la potenzialità in più l'abbiamo noi che abbiamo bisogno come mister che si fa fare grandi cose. Parola.